... Amici sportivi appassionati di calcio a cinque, la buona serata da Fabrizio Agostini, benvenuti al Palabiancini di Latina, prima giornata del massimo campionato di calcio a cinque nazionale, uno sardio davvero altifonante per Latina, l'Axted Group Latina che ospita la Luparenza FC che è di casa qui a Latina, ci parte Avellino, parte Avellino, sotto l'usura arriva il gol di Corso che sbocca la partita, Sebastiano Corso, schema perfetto, 1-0 per il 1-0, Bordignoni, ora ancora un errore, c'è Corso, Corso, una doppietta di Sebastiano Corso, 2-0 Latina, Corso che evita il contrapiede, Avellino dentro per Maina, una spuntura di candidazione che però Avellino non concretizza, fuori Avellino, Battistoni, formato Battistoni ancora un olio, c'è il destro, Malcuso, lo aspetta Terenzi, Malcuso, va via a destra Malcuso, Malcuso il destro in due tempi cinchio, pallone per Berbardo, il sinistro fuori, pallone Miramon per Bertoni, lotta con Avellino, poi sbuca Pedro, 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 2-1, accorsa le distanze Pedro Maina, finta il tiro, poi scarica il sinistro sulle mani di Biarelli, Bernarda Spalo, doppia grande occasione per Latina, Maina, rientra Maina, vorrebbe il tiro, poi gran numero per Avellino, Avellino poi sulla riga, arriva la respinta di Bertoni, parte Avellino, il tiro palla sul palo, Corso prova ad impostare, Maina, grande assist, poi sbaglia Miarelli, Maina, se parta la palla sul sinistro il tiro, la respinta, Battistoni, Battistoni pensa al tiro, poi tira e Miarelli blocca, Taborda, dentro per Bertoni, si gira Bertoni il sinistro pericoloso di Bertoni e allora può ripartire da Luparenze con Onorio, Taborda, pallone dentro, Maina di petto e poi spazza via, che ora può sfruttare un calcio di punizione, Maina, Avellino, palla alta, comunque appassionante, Bernardes, la respinta con i piedi da parte di Miarelli, Bernardes, poi riconquista il pallone Latina, Bernardes, Bernardes, sbaglia in maniera piuttosto clamorosa, Battistoni, laggiù Battistoni, tutto regolare, allora Bertoni, Bertoni con il piede, Chinchio, pallone dentro, Taborda al volo, Chinchio, mette in calcio d'angolo, difende palla Onorio, poi Bordignon, dentro Bordignon, poi combinazione volante molto bella tra Ramon e Taborda. Avellino, per Bernardes, la gran parata di Miarelli, al volo, pallone per Bordignon, al volo, palla alta, finisce la partita, Latina vince 2 a 1 sulla Luparenze, la doppietta di Sebastian Corzo, la rete di Pedro per la Luparenze e dunque esordio vincente per i Nerazzurri che conquistano tre punti importanti davanti ad un pala bianchini davvero gremito.